Siamo a Soveria Mannelli, abbiamo appena concluso le riprese della trasmissione Parliamoci Chiaro con Paolo Marre, che andrà in onda sul Video Calabria. Paolo, come mai a Soveria Mannelli? Che razza di domande sono, scusi? Come mai a Soveria Mannelli? Niente, perché non sapevamo che fare, mi sono sbagliato. Ho fatto una serie di bigliettini, ho scritto il nome dei paesi, sortai giù e è uscito Soveria Mannelli. No, Soveria Mannelli, stavo scherzando, intanto lo tengo io, intanto per l'amicizia che ci lega con Antonio Abruzzese, non so se lo conosci, e poi perché ci interessava comunque un paese della provincia di Catanzaro, allora abbiamo deciso di venire a Soveria Mannelli, che come al solito non si smendisce perché sono state due belle puntate che abbiamo registrato in giro per il paese, per le case. E come al solito siamo andati a vedere un po' di roba serie, insomma anche da mangiare. Ricordo la signora, signora Sara, 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 Chiara, Sara, Chiara, Sara, Chiara, Sara. Ah, erano due, ecco, perché c'era l'ottima carne di maiale con il sugo e poi l'altra che cosa era, mi sfugge. Ah, basta i fagioli, infatti quando sono ritornato a casa stavo festeggiato. No, cancello. E vabbè, niente, poi che volevi sapere più? E altre domande? Ah, faccio io. Niente, sembra un piacere di tornare davvero a Soveria Mannelli, adesso stiamo facendo questo tour per far conoscere ai nostri telespettatori i dialetti delle cinque province calabrese. Anche perché, devo dire, maggiormente i giovani non tutti, insomma, diciamo che lo parlano più il dialetto o quelli che lo parlano non è il vero dialetto, perché noi spesso preferiamo incontrare le persone anziane per ascoltare davvero il dialetto, quello originale. I prossimi impegni, guardatevi Carlopoli, dove abbiamo registrato due puntate straordinarie. Due puntate straordinarie, ringrazio Emanuele Tallarico che ci ha organizzato le due puntate. Abbiamo fatto delle cose simpaticissime e abbiamo mangiato bene anche lì, sì, è vero, abbiamo mangiato bene anche a Carlopoli. Liberi TV, ciao, un abbraccio a tutti. E seguiteci naturalmente sul canale 13 di Video Calabria in tutta la Calabria e in tutto il mondo in diretta streaming su www.videocalabria.tv Ciao. 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 Ciao.